Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Manfredo e oggi farò la classifica e le partite delle italiane e poi la classifica dell'Europa League di tutte le spalle dell'Europa Ragazzi, scrivetemi dei direct su Instagram, consigliatemi che video fare di calcio ovviamente Niente, vi dico solo questo, iscrivetevi al canale se volete, non è un obbligo Lasciate like, non è un obbligo, fate voi Niente, se volete lasciate un commento, non è un obbligo Niente, allora Assettate che prendo la classifica Allora, gruppo A, Roma, Young Boys, Cluj e Sofia Gruppo B, Arsenal, Molde, Rapid Vienna, Dundalk Gruppo C, Leverkusen, Slavia Praga e Berr, Sheva, Nizza Gruppo D, Rangers, Benfica, Standard, Liege e Lec Gruppo E, PSV, Granada, Pauk o Monola Gruppo F, Napoli, Real Sociedad, Az, Reshka, una squadra croata Gruppo G, Leicester, Braga e Zoria, Luansk e AEC, una squadra di Atene Gruppo H, Milan, Lille, Sparta Praga e Celtic Gruppo I, Villareal, Tel Aviv, Sival, Spor, Quarabac Gruppo J, Tottenham, Antwerp, Lask e Ludo Goretz Gruppo K, Dinamo Zagabria, Wolfsberg, Feyenoord e Ececa Ece, esce, vabbè va La squadra di Mosca e, vabbè manca la sapere Allora, gruppo L, Offenheim, Stella Rossa, Liberek, Gent Scusate se non so pronunciare alcune squadre ma sono squadre impronunciabili come si può dire E ora parlerò delle partite delle squadre italiane Allora, inizio dal Milan Sparta Praga-Milan Finita 1-0 per il Milan Gol al 23esimo di Ague Milan passa prima dal girone Lille ha perso col Celtic ultimo E niente Poi Napoli Napoli Real Sociedad Finito 1-1 Allora Gol di Zielinski Bellissimo gol di Zielinski E poi gol al 92esimo del Real Sociedad Quindi finisce così la partita a Napoli Poi Sofia-Roma Finita 3-1 per il Sofia Anche se va ultimo nel girone La Roma passa da prima Ugualmente Non so se è stata una bella partita Ma non l'ho vista la partita Perché non me la guardo la partita della Roma Io non me ne guardo partite Cioè prima le vedevo le partite della Roma Insieme a me Allora ragazzi Il video finisce qui Un saluto da Manfredi Manfredo E buon proseguimento di giornata Ciao